E' stato invece ritrovato nel Bosco della Candelara sui Monti Peloritani un esemplare della rarissima manita ponderosa. Il ritrovamento di questo fungo rarissimo è stato fatto dai micologi Franco Mondello e Angelo Miceli, entrambi componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Centro di Cultura Micologica di Messina. Le caratteristiche morfocromatiche dell'esemplare raccolto al successivo esame al microscopio effettuato dallo stesso Mondello hanno confermato la corretta determinazione della specie. Si tratta di un fungo semi-ipogeo, la cui crescita avviene generalmente nel periodo di marzo-aprile. E' solito fruttificare in terreni aridi e duri anche al centro e ai bordi di strada interabattuto. Molto raro in Italia dove esporadici sono i luoghi di fruttificazione segnalati.